Alto Piano preso letteralmente d'assalto nel weekend di Ferragosto durante il quale si è registrato un vero e proprio boom di visite, mordi e fuggi. Anche se rispetto al trend che ultimamente ha visto turisti e sportivi svuotare le località preferite già nel primo pomeriggio, stavolta chi ha fatto visita in Alto Piano è rimasto lì fino a tarda serata, complici anche le temperature roventi in bassa quota. Sono moltissimi i turisti, gli ospiti che sono saliti ad Asiago nell'altopiano di Sette Comuni per il weekend di Ferragosto. Ci sono stati ovviamente alcuni problemi legati alla viabilità ma molte persone ovviamente hanno scelto anche la parte alta del nostro territorio andando in montagna, nei sentieri, frequentando le malghi, i rifugi. Dunque traffico sì ma non da bollino nero, almeno non in tutte le zone e soprattutto non a tutte le ore. Dalla tarda mattinata le strade sono state più percorribili e restando in tema di confusione il green pass da esibire per pranzare al chiuso è stato gestito senza grossi intoppi. Tante le attrattive che hanno spinto stranieri e non a scegliere l'altopiano dove si sono registrate comunque temperature alte ma gradevoli e tante anche le immancabili grigliate organizzate qua e là in tutta la zona. Un agosto che ha visto Gallio protagonista per presenze a livello turistico qui sull'altopiano. Siamo partiti con lo street food dello scorso weekend con migliaia di presenze per passare poi a quello che è stato l'unico spettacolo pirotecnico di Gallio sparato per la prima volta dal Monte Sisimo a beneficio dei molti turisti che da Tescheconca fino a Gallio hanno potuto vedere e notare i nostri fuochi d'artificio.